buonasera a tutti dovreste sentirmi allora condivido lo schermo e partiamo un feedback se vedete il mio schermo perché credo di no un piccolo problema con zoom ok si sente ma non si vede ok allora un problema con lo schermo ok ditemi adesso se si vedono le slide ok perfetto allora disclaimer i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e hanno carattere puramente educativo non costituiscono nessun incentivo ogni investimento chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori a tic mil non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. le opinioni espresse del relatore non necessariamente rispecchino quelle di tic mila a meno che non sia stato specificato l'avvertenza sul rischio i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 73% dei conti dei clienti al dettaglio di tic mil uk e ltd perde denaro facendo trading con i cfd valuta se comprendi come funziona i cfd e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. allora questa sera eh parleremo di futures quindi non tratteremo soliti argomenti relativi ai strumenti cfd perché sapete che da qualche mese tic mila ha lanciato anche i prodotti futures. prima di entrare nel vivo eh vi faccio una comunque una breve presentazione la solita presentazione del del broker che rappresento che questa sera è sotto l'entità di UK perché comunque i futures sono eh disponibili per eh l'entità tic mila UK che è regolamentato dalla FCA con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a ottantacinque mila sterline. Eh purtroppo Giampaolo non funziona la modalità di presentazione perché ho più schermi eh se mando la eh modalità di presentazione mi fa saltare eh lo schermo di zoom e quindi non riesco a farlo purtroppo. Eh continuando con la presentazione eh tic mila è un broker non di l'indesco il che eh significa il cento per cento delle posizioni vengono inviate ai liquidi provider. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi garantita da oltre dieci server sparsi per il globo. gli sped partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato non ci sono commissioni sugli indici eh sono disponibili anche i microlotti sugli indici americani che si affiancano a quelli sul DAX che avevamo già da diverso tempo. Con tic mil non riceverete mai un record e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scalping arbitraggio eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Sempre sull'ambito e adesso rimaniamo sempre sul discorso CFD ci sono tre tipologie di account il conto pro e il conto VIP che sono quelli più utilizzati che hanno sped a partire da zero a cui si aggiunge una piccola commissione e poi c'è il conto classic che non ha commissione ma gli sped sono un po' più alti perché partono da 1.6 ed ecco adesso il discorso sul conto futures questa è un po' una panoramica poi andiamo a vedere direttamente dal dal sito eh web comunque con eh il conto futures che ehm comunque è un conto che va aperto eh in maniera del tutto separata e distinta da quello dei solito che molti di voi hanno con i CFD vi permette comunque di negoziare sulle forse più importanti come il CME e Nimex eccetera con un deposito minimo eh di mille dollari. poi eh come eh come piattaforma c'è la piattaforma S la CQG ma ce ne sono anche tante altre stasera avveniremo appunto la training view grazie alle connessioni API quindi è possibile connettere il nostro data feed con appunto la training view, multi chart, sera chart e ci sono anche altre eh comunque piattaforme. ritornando sul discorso dei CFD questa è una tabella che mostro di solito durante i miei webinar che eh va un po' a comparare quelle che sono le condizioni eh di spread e commissioni quindi incluse anche le commissioni rispetto ad altri competitor dal sito sito che sicuramente molti di voi conosceranno che è MyFXbook che ha una sezione fatta molto bene dove va a comparare i vari spread dei vari broker a livello globale e noterete come per la maggior parte del tempo abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto agli altri ve ne accorgete dal eh da questo box verdino che si illumina eh e sta a indicare appunto che le commissioni e gli spread sono più bassi rispetto ad altri. e chiudo la presentazione con questa tabella riassuntiva sulle commissioni per darmi l'esempio su un lotto di euro dollaro escluso lo spread sul conto pro parliamo di quattro euro in apertura e chiusura sul conto VIP due euro in apertura e chiusura che rispetto alla media degli altri broker che ho visto più o meno applicano un sei euro eh in apertura e chiusura di posizione sia un risparmio di circa il trenta per cento con il conto pro e di oltre il sessanta per cento di addirittura con il conto vip. Allora adesso chiudiamo questa presentazione e andiamo a vedere un po' il discorso relativo al appunto ai prodotti futures e per iniziare vi faccio vedere dove andare a reperire un po' tutte quelle che sono le varie informazioni relative a questi prodotti. come dicevo all'inizio della presentazione questi prodotti sono offerti dalla entità TICMIL UK quindi regolamentato FCA UK e c'è una intera sezione dedicata ai futures e alle opzioni. quindi andate sul sito di TICMIL il solito che conoscete ovviamente se lo trovate in inglese potete switchare in italiano e troverete nelle varie sottocategorie in trading futures e opzioni quindi è molto importante in prima battuta andare su TICMIL UK perché se andate sull'altro TICMIL Europe o TICMIL Seychelles queste informazioni non le vedete perché comunque non sono disponibili per quelle entità. quindi su TICMIL UK trading c'è tutta una sezione dedicata alle varie mercati che offriamo attraverso sotto i CFD sia questa parte qui in mercati sezioni dove abbiamo forex, indici, metalli, obbligazioni, criptovalute, poi le varie piattaforme tra l'altro abbiamo lanciato la MetaTrader 5 da qualche settimana, poi ci faremo magari qualche webinar anche su questa piattaforma sul discorso future opzioni c'è un'intera sottocategoria comunque che è relativa a questi prodotti e potete poi selezionare le varie sezioni a noi interessa sia le varie piattaforme disponibili ma soprattutto i costi che sono indicati in maniera molto trasparente in questa sezione costi, futures e opzioni quindi con il contratto Start and Tard che parte da 1,30$ i contratti micro da 85 centesimi parliamo di commissioni che poi sono comunque descritte in maniera dettagliata in queste due tabelle molto importanti una dove abbiamo un po' tutti i vari asset, le asset class che sono disponibili attraverso le categorie dei futures quindi possiamo innanzitutto scegliere quale borsa andare un po' a vedere dove, quali, scusate, quali prodotti Tickmill offre c'è appunto CME, Eurex, Nimex, lo Small Exchange, quindi ce ne sono diverse e poi possiamo decidere ovviamente il tipo d'asset, l'asset class quindi su se sono metalli, energia, obbligazioni eccetera e anche la size quindi vedere anche un po' quale tipi di prodotti sono disponibili nelle varie borse ad esempio dei contratti micro che secondo me a mio giudizio sono ottimi prodotti per chi vuole un po' iniziare a prendere mano con questi prodotti regolamentati e secondo me anche con la TrainingView è un'ottima piattaforma per iniziare un po' a prendere la mano con questi tipi di prodotti allora ci sono un po' delle domande sì vediamo adesso poi le vedremo tutte nel dettaglio quelle e il training che è possibile fare attraverso la TrainingView tornando sempre sulla schermata relativa appunto ai vari contratti poi ci sono le specifiche molto importante anche capire le dimensioni del Tick, il valore del Tick che con la TrainingView ho visto vengono comunque indicate in maniera molto facile e molto intuitiva da seguire quindi molto difficile fare danni con una piattaforma del genere ma poi lo vedremo nel dettaglio però dare sempre un'occhiata a quelle che sono le specifiche di contratto non fa mai male perché sono descritte in maniera molto dettagliata ad esempio se torniamo sempre sui futures e vogliamo vedere i micro ad esempio su un Nasdaq vediamo come il valore del Tick sia di 50 centesimi con una dimensione del Tick di 0,25 quindi sono più o meno 2 dollari appunto sul micro del Nasdaq poi ci sono un po' se clicchiamo dovrebbe riportarci alla pagina del CME Tick 1000 e partner appunto del CME quindi abbiamo abbiamo un po' tutte le varie caratteristiche con tutte le informazioni necessarie quindi queste sono un po' le schermate poi per aprire un conto ci sono due sezioni avete visto prova demo non relativa alla training view ma la CQG che è la piattaforma standard che offriamo dove c'è la possibilità di provare per 20 giorni appunto la CQG sulla training view invece non c'è la possibilità a parte quello che offre direttamente training view di una demo dove potete poi provare la demo quindi le varie caratteristiche che poi andremo a vedere ma non ovviamente il training con Tick 1000 perché il data feed comunque non è disponibile in demo ma solo con la CQG per 20 giorni quindi questo poi è la schermata che vi facevo vedere quando si clicca su apri conto poi bisogna seguire un po' tutte le procedure la procedura e una volta fatta tutta la trafila basta una copia di un documento di identità più una prova di residenza per poter aprire il conto futures e depositare un deposito minimo di 1000 dollari vi si apre questa schermata verrà abilitata dalla vostra area clienti dove poi potete sottoscrivere i vari abbonamenti che servono per poter operare sui futures e le opzioni allora Tick 1000 offre diverse opportunità quindi non solo la training view ma ad esempio c'è quella standard di ricevo che è la CQG poi c'è Multichart che è molto conosciuta tra i vari sistemisti costa solo 10 dollari il data feed per poter poi agganciare il nostro data feed a Multichart Sierra Chart appunto la training view poi c'è questo software di analisi su Elliot il Bookmap che è un'altra piattaforma che ha preso molto sopravvento tra i vari trader ed è molto utilizzata e c'è quest'altra che non conosco sinceramente è Agena Trader che appunto è una delle varie piattaforme che si possono inserire con Tick 1000 e poi c'è il market data molto importante il data feed che potete includere e andare a sottoscrivere a seconda se vi serve il primo livello il secondo livello il primo livello è solo il bid il miglior bid e ask se invece volete tutto relativo al book bisogna poi sottoscrivere il secondo livello ok quindi una volta sottoscritto da qui la piattaforma training view che ricordo è totalmente gratuita fino al 31 ottobre poi costerà sui 10 dollari per avere il data feed più 15 dollari che vi applica direttamente training view per la versione pro la versione pro non è indispensabile per poter fare training perché basta solo appunto abilitare il data feed per poter poi operare con la training view ma la training view pro che è questa che ho io mi dà alcune caratteristiche alcune migliorie che adesso vi faccio vedere allora poi per le domande che leggo cerco di rispondere verso la fine così adesso dedico tutta questa parte non dovrebbe durare tantissimo il webinar perché sia perché giorno dopo ferragosto siamo un po' tutti in vacanza vi faccio una presentazione una panoramica di quella che sono le caratteristiche della training view e poi appunto qualche 5-10 minuti per le domande allora partiamo dal quindi secondo step avete aperto il conto vi è stata abilitata l'area clienti quindi avete già depositato avete scelto la training view dobbiamo andare a collegare la training view con il nostro broker TIC1000 io ovviamente già l'ho fatto per comunque per velocità e anche per darmi un po' anche l'impatto visivo ma faccio un attimo una piccola panoramica quindi facciamo finta che adesso io non abbia TIC1000 live qui vediamo se esco spero di non fare danni comunque dovreste trovare appena aprite la training view questa sezione in pannello trading con diversi broker che ci sono con training view c'è appunto TIC1000 bisogna cliccare su connetti io adesso ho già salvato la mia username e la password che vi arriverà via email quindi basterà poi inserire quando vi chiederà appunto quindi dopo aver cliccato connetti si apre una schermata con la richiesta di user e password che vi arriverà via email inserirete quella e arriverete in questa sezione qui quindi con TIC1000 live con varie sottocategorie c'è anche una diciamo una sezione dedicata alle domande su come fare training con TIC1000 sulla training view quindi ci sono appunto degli articoli che potete leggere qualora abbiate bisogno di approfondire un po' il discorso poi molto intuitivo questo pannello perché abbiamo le posizioni io adesso ad esempio ho una posizione in essere su questo strumento che è il Brent il mini il WTI scusate il micro WTI una posizione short vedete una quantità meno uno che sta a indicare appunto lo short il prezzo medio il guadagno attualmente lo stop loss e il take profit poi nella sezione 2 ci sono i vari ordini che io ho inserito nel diciamo durante la giornata così come lo storico quelli vendi compra anche quelli respinti annullati un po' tutto poi c'è riepilogo conto con qui già lo vediamo sulla in alto a destra qui con margine richiesto dall'operazione sul WTI e più il diciamo il saldo attualmente del conto poi c'è un riepilogo conto e poi c'è un registro notifiche appunto gestito da training view questa è un po' la categoria per TICMIL live poi ce ne sono quelle relative a training view che sono uguali con tutti i vari broker c'è il tester strategia l'editor per poter scrivere i vostri diciamo indicatori non chiedetemi che tipo di di codice venga utilizzato perché non ha più palida idea però potete poi scrivere quello che se siete appunto dei programmatori i vostri script ce ne sono altri che comunque condivisi poi lo vedremo poi c'è un bloc note e lo screener sul forex sulle crypto sulle azioni che potete andare un po' a vedere quindi questa è un po' la sezione in relativa al TICMIL live più tutti i vari quei tester screener della training view partiamo in alto quindi una volta che vi siete loggati dovete un po' capire che tipo di prodotti ci sono quindi vi troverete con queste schermate se flegate TICMIL vedrete tutti i prodotti disponibili quindi tradabili negoziabili con TICMIL se spuntate e togliete quindi la se togliete invece la spunta di TICMIL vedete un po' tutte quelle che sono le varie diciamo azioni forex CFD offerte da training view con altri broker quindi dovrete poi avere l'accesso con altri broker per poter tradare queste questi strumenti invece con TICMIL visto che parliamo solo di futures a noi quello che interessa è la sezione futures quindi andrete quindi a sfuntare la casella TICMIL con i relativi futures e avete tutta questa lista sulle varie borse negoziabili con training view per me è molto intuitiva quindi magari può essere un ottimo sfunto per chi vuole iniziare a negoziare con contratti mini o micro ce ne sono diversi c'è ad esempio l'S&P il mini ma anche il micro il Nasdaq il Bitcoin Bitcoin una premessa siccome siamo in sottoentità UK con la FCA UK la FCA UK permette la negoziazione delle criptovalute solo ai clienti professionali non ai clienti retail quindi bisognerà fare poi la diciamo richiesta di classificazione come cliente professionale per negoziare all sul Bitcoin che ha dei margini enormi quindi non accessibile a tutti ma soprattutto quello più interessante è il micro che l'avevo visto qui c'è da qualche parte nella potete cercare Bitcoin e potete negoziare nel micro Bitcoin ma bisogna essere ripeto comunque classificati come clienti professionali allora ritorniamo alla lista quindi dicevamo ci sono diverse asset class che potete negoziare se non dovesse esserci qualcuna in questa lista ma è comunque negoziata nella borsa di riferimento e quindi avete bisogno di un particolare strumento basta puoi contattare il nostro servizio clienti o contattare me per richiedere comunque di aggiungere un determinato strumento che magari in questa lista non c'è però deve essere negoziato sulle varie borse appunto come ad esempio il NYMEX se non c'è un future sul NYMEX NYMEX potete richiedercelo e vedremo di comunque inserirlo nella lista allora ritorniamo un po' quindi questa è un po' la lista dei vari strumenti negoziabili con TIC1000 quindi adesso vediamo come inserire un ordine adesso ho già un ordine short sul WTI che credo sia stato eseguito adesso si ha chiuso in profitto quella short che avevo sul WTI adesso voglio aprire una posizione non sul micro bitcoin perché purtroppo non ho la classificazione su questo conto come cliente professionale ma facciamo un'operazione ad esempio sul possiamo provare il micro Nasdaq quindi invece di andarlo a cercare così nella lista scriviamo Nasdaq con scadezza settembre 2021 allora io adesso non ho fatto un'analisi ma posso comunque aprire una posizione attualmente vediamo di prima una posizione long sul Nasdaq da questa mascherina abbiamo sia la mascherina qui a destra molto utile però se la vogliamo richiamare basta cliccare su trade si apre questa mascherina qui con appunto varie situazioni che già conosciamo con la MetaTrader 4 perché ci sono un ordine limite l'ordine stop lo stop limit ma mettiamo il caso che io voglio entrare adesso a mercato con un un micro di Nasdaq che abbiamo visto prima nelle specifiche sono due dollari appunto qui il vedete la schermata come molto intuitiva ci dà già sia la perdita in questo caso sono 68 dollari che il potenziale gain qualora io decidessi appunto questi take profit qui che sono visualizzati quindi se io adesso entro a 15.035 facciamo che voglio chiudere a 15.071 quindi lo scrivo qui in questo caso ovviamente sarà 72 dollari stop sotto questo minimo classico trade che è 14.913 quindi lo scrivo qui in questo caso sono 245 dollari di di potenziale perdita lo compro e arriva l'ordine vedete che ho già qui il margine impiegato quindi in questo caso parliamo appunto di 1936 dollari con queste schermate che vediamo sul queste linee che vediamo direttamente sul grafico che possiamo spostare quindi qualora volessi spostare il take profit molto intuitivo anche posso magari mettere più in alto qui o più in basso più vicino a seconda di dove desidero impostare il take profit devo poi solo dare la conferma modifica stessa cosa per lo stop loss se voglio mettere un po' più in basso ho questa operazione quindi adesso l'operazione mi viene visualizzata sul tick mille live e la lasciamo andare quindi poi si può anche invertire la posizione qualora lo desideriamo levare lo stop loss così anche il take profit molto intuitivo a questa schermata stessa cosa sullo stop sull'ordine limit vedete possiamo decidere su come comunque impostare l'operazione che ha la stessa le stesse schermate dell'ordine a mercato solo che ovviamente in questo caso dobbiamo decidere l'ordine limit e la stessa cosa sullo stop e lo stop limit quindi sono queste quattro funzionalità che possiamo poi decidere di sganciare la schermata quindi l'unica cosa è peccato per chi ha più monitor come me non si può spostare la mascherina ma rimane all'interno della diciamo della training view e quindi questo forse è un po' una pecca di questa piattaforma però per il resto è molto intuitiva quindi questo è un po' l'ordine vediamo come si presenta che cosa possiamo fare con la training view ovviamente ci sono i vari time frame come anche quelli sui secondi che sono molto utili anche su già i grafici range e quindi possiamo decidere il time frame che più desideriamo ovviamente anche poi le varie configurazioni se barre candele quello che vogliamo possiamo decidere di confrontare questo grafico con altri indici se vogliamo fare una sorta di spread trading e poi una schermata molto utile ovviamente sono i nostri amati indicatori quindi qui trovate i miei script se appunto avete creato uno script oppure quelli integrati da training view i vari pattern sulle configurazioni delle candele come ad esempio potete se io clicco su doji mi vengono visualizzati tutte le doji sul vedete queste d sul grafico poi se le voglio togliere basta che clicco qui sulla x e posso toglierli libreria pubblica quello che vi dicevo prima quindi qualora non siate degli programmatori ma volete comunque degli indicatori che non sono integrati con la training view ma che sono stati realizzati magari da altri utenti potete comunque inserirli ad esempio se volessi inserire un super trend che è stato creato da questo utente basta che clicco e vedrò il super trend che adesso sul nasdaq è diventato ribassista e lo vedrò sulla piattaforma stessa cosa quindi se voglio toglierlo vedete qui dove sto andando adesso con il mouse basta cliccare sulla x quindi questa è un po' la sezione degli indicatori e poi il profilo volume questo è disponibile solo per la versione pro quindi ci sono i vari volumi di sessione che io ho già inserito prima con i vari POC queste cose qui che utilizzano i trader che operano sui volumi con la training view è possibile averlo solo se si ha l'upgrade appunto a training view pro che ricordo con TIC 1000 è gratuito fino alla fine di ottobre quindi questi sono i vari indicatori la sezione indicatori molto interessante che troviamo su training view poi finanza questo è un po' dedicato sull'aspetto delle azioni quindi questo lo saltiamo perché sui futures non ci interessa però c'è anche questa sezione che è davvero molto utile vari modelli i modelli di default che possono essere applicati qualora non abbiate una diciamo una un'idea ben specifica su come impostare il vostro grafico potete diciamo inserire questi pacchetti ad esempio con il bill williams con le medie mobili il volume cliccate sopra vi comparirà comunque il diciamo se ad esempio clicco vedete che viene trasformato questo grafico se poi voglio tornare indietro basta che vado sulla freccia e ritorna la mia configurazione precedente alert molto interessante l'alert utile soprattutto potete impostare tutti gli alert che desiderate sulla vostra training view e in base un po' a quelle che sono le vostre esigenze e quindi poi vi arriverà l'alert direttamente con notifica sull'app o mostra il pop-up o invia email ci sono diverse modalità per poter comunque ricevere l'alert e la sezione replay non so se già la conoscete io immagino di sì so che molti utilizzano la training view però se volessi fare una sorta di backtest magari manuale quindi dire non so io ho un pattern specifico che alla rottura di qui di backup devo andare long che cosa è successo al mercato quindi ritorno indietro qui senza rivedere che cosa è successo dopo quindi clicco su play e vedete che si ripropone quella sessione di trading e quindi io posso fare diciamo un po' le mie mie studi senza grafico già fatto magari per evitare delle illusioni ottiche quindi ho questa possibilità molto utile della training view quindi se poi voglio ritornare al grafico di prima clicco sulla x ed esco e ritorno dove ero prima allora quindi questa è un po' la parte alta poi potete salvare ovviamente il vostro cloud su training view con le vostre schermate e quindi dare un nome e creare appunto il vostro layout questa è un po' la modalità schermo intero se cliccate qui oppure se volete fare uno screenshot c'è anche la possibilità o potete pubblicare le vostre idee di trading quindi sia registrare un video o pubblicare magari anche le vostre operazioni su visto che training view è un social trading potete impostare le vostre operazioni quindi cliccare molto utile questa sezione qui poi ci sono le varie chat quindi che possiamo andare a vedere in queste sotto categorie oltre le chat ora è possibile mostrare la descrizione ok quindi spostiamo un po' qui altrimenti si copre quindi abbiamo visto tutta la parte alta della training view cliccando invece su questa su queste varie categorie abbiamo la watch list qui con i vari dettagli vedete riclicco quindi potete vedere un po' quelle che sono un po' tutte le caratteristiche vado veloce perché qui ovviamente basta poi scaricarmi una training view e potete vedervele anche voi c'è il calendario che è utile le vostre idee di trading qualora le abbiate pubblicate poi c'è la chat quelle pubbliche con le varie chat che ci sono su training view e anche poi le varie idee di training che vengono postate dai vari utenti che utilizzano la training view cos'altro allora poi sulla sinistra invece qui abbiamo un po' di studi con le varie trendline che potete disegnare cliccandoci sopra molto intuitivo e anche qui sulla parte diciamo sulla sinistra ci sono i vari studi che potete impostare a seconda di quelle che sono le vostre analisi qui c'è anche forse qualcosa su Elliot vedete comunque ci sono cicli che potete disegnare e visualizzare allora quindi questa è un po' la panoramica di training view è una piattaforma a mio avviso molto intuitiva a parte questi disegni che ok cancello allora sposto qui è l'operazione che prima è macchina se la volete chiudere basta cliccare sulla X e potete chiudere l'operazione allora io ho finito la presentazione di training view come vi dicevo era molto veloce perché ovviamente è una presentazione della piattaforma con le varie caratteristiche di TIC1000 vediamo un po' quelle che sono le domande allora massimo buonasera si possono effettuare un'apertura vendite di opzioni futures sul CME in questo caso parliamo di non di opzioni ma di di futures quindi non ci sono le opzioni qui su training view sulle opzioni ci sono altre piattaforme come ad esempio la la CQG su l'S&P non ho capito massimo qual era la domanda comunque Mario chiede quali sono i margini di garanzia quello lo possiamo vedere o da questa schermata qui o comunque se andiamo sulla pagina di TIC1000 ci sono i margini richiesti dall'exchange poi quelli di TIC1000 comunque ovviamente non è 2003 più 2150 il margine totale per aprire una posizione standard ad esempio sul British Pound di 2365 dollari quindi in questo caso il margine iniziale richiesto da TIC1000 quindi lo vedete sia sulla schermata e poi training view lo fa vedere anche sulla su questa pagina qui se ovviamente non avete il margine è sufficiente vi arriva all'ordine un messaggino con l'errore quindi con l'ordine che viene respinto e lo vedete qui infatti io prima ho provato ad aprire una posizione non avevo abbastanza margine ed è stato respinto anche l'utilizzo gratuito della training view ha un limite di tempo si scade questa promozione il 31 ottobre quindi qualora siate interessati vi ripeto non c'è una demo quindi bisogna aprire il conto futures effettuare il deposito minimo di 1000 dollari che ovviamente non mi dà nessun obbligo perché potete provare la training view ma non siete vincolati fino al 31 ottobre se la training view non vi piace dopo una settimana potete comunque prelevare il il vostro denaro e non vi verrà applicato nessun costo da parte di di Tickmill l'importante ovviamente è che poi andate a cancellare la sottoscrizione sulla vostra pagina sull'area perché poi se scade dopo il 31 ottobre quello rimane attivo e vi parte comunque poi la commissione comunque basta poi anche scrivere al servizio clienti che vedete qui aspettate che arriva faccio vedere l'email che è questa qui client service chiaccia la Tickmill punto co punto UK per poter inviare poi tutte le richieste allora questa operazione qui la chiudo con la X vedete che vi arriva il pop up quindi se prende uno stop posso tornare indietro con il replay simpatico Salvatore purtroppo no allora poi per il training stop purtroppo adesso l'operazione l'ho chiusa però poi c'è qui una sezione dedicata e si può eventualmente Salvatore ti apri un bel conto futures e fai tutte le prove del caso ovviamente Salvatore Labriola che saluto è il programmatore della dashboard retail allora vediamo non ci sono altre domande ma ne vale la pena non lo so Pietro dipende da te se vuoi approcciarti come dicevo ai futures e quindi io per alcune caratteristiche preferisco sempre CFD per il discorso della gestione delle sites perché comunque adesso anche con i micro lotti sui futures si può fare un ottimo position sizing però per chi poi invece vuole un po' approcciarsi ai mercati regolamentati per fortuna ci sono questi anni il CME ha iniziato un po' a inserire questi prodotti micro che sono molto liquidi quindi non ci sono grossi slippage sui futures magari su altri prodotti su altri mercati come ad esempio i metalli magari c'è c'è un po' più oppure come natural gas ci sono un po' di slippage non dovuti ovviamente a TIC 1000 ma al discorso proprio della liquidità presente in determinate borse non mi piacciono tantissimo quei prodotti lì però come discorso di iniziare a vedere un po' un approccio ai futures per magari costruire delle operazioni delle posizioni tenendo conto anche delle opzioni potrebbe essere un buon inizio partire con appunto una training view fare un po' tutte le esperienze del caso vedete che è molto intuitivo e poi decidere non so se ne valga la pena per me è comunque un qualcosa in più e quindi avere più prodotti a noi non cambia se negoziate sui CFD o sui futures però appunto offrire più strumenti è sicuramente una valida alternativa per per il trader come tassazione non c'è regime amministrato donato perché TICMIL opera in regime dichiarativo e quindi poi la dichiarazione aspetta al trader come broker abbiamo delle convenzioni con due commercialisti che offre comunque offrono delle scontistiche e dei prezzi interessanti per la dichiarazione abbiamo fatto poi un webinar qualche mese fa con Marco D'Andrea proprio su questo aspetto potete andarvelo a rivedere sulla pagina di YouTube allora Pietro ancora è già difficile tradare di per sé meno complicanze ci sono non sarebbe meglio questa è molto intuitiva nel senso è comunque molto facile sui futures però è un discorso di forse di marginazione un po' più complicato perché poi l'exchange potrebbe farvi un richiamo di margine se andate sotto una certa soglia perché la maggior parte fa training su CFD perché ovviamente richiede meno capitale di ingresso e sono molto più facili intuitivi come utilizzo sulla metateter 4 e future sono forse un po' più complicati e bisogna tenere in considerazione alcune cose poi ovviamente bisogna tener conto anche delle scadenze dei vari futures che appunto questa era una scadenza ad esempio sul Nasdaq del settembre 2021 quindi bisogna rollare le posizioni fare un po' una serie di cose Pietro che sicuramente per chi inizia non è proprio facilissimo però piano piano appunto se qualcuno vuole iniziare ad approcciarsi sicuramente è meglio farlo con una training view che piuttosto con piattaforme più sofisticate e complicate che ci sono in giro a voi la scelta comunque OCFD futures avete comunque la possibilità di negoziare con TICMIL ad ottime condizioni ok io direi che va bene così questo era appunto un webinar sul discorso dei futures poi farò in futuro su altre piattaforme vi voglio presentare anche la CQG che è molto carina anche se lì è un po' più complicato però per chi poi vuole anche iniziare un po' il discorso sulle opzioni vi farò vedere quella piattaforma perché è molto molto utile allora grazie a tutti buone vacanze per chi è in vacanza e ci sentiamo e vediamo il prossimo webinar con TICMIL buona serata a tutti grazie a tutti